Le sette in buro, per chi è già sveglio, è un caffè lungo, è uno sbattiglio, è mille notti che non dormo, la rassegna è quel che voglio, mi anzo in piedi, vado in strada per guardarmi la puntata, non andrei più a lavorare, con Rayplay lo posso fare. Come pensi che potrei mai stare senza, senza di te, viva Rayduo, con l'accento sulla E, ciao Fiore. Ti aspettavo, ti abbracciamo, bentornati, bentornati.